Situazione normalizzata a San Costanzo di Pesaro, dove c'erano state nei giorni scorsi aspre polemiche sulla possibilità di cedere il teatro comunale agli anticlericali per tenere un meeting. Il sindaco comunista della cittadina, principale bersaglio delle polemiche sollevate dai cattolici del luogo, ha presentato ieri sera in giunta le sue dimissioni. Tra le motivazioni anche alcune telefonate anonime di minaccia. La giunta ha comunque respinto le dimissioni all'unanimità. Contemporaneamente gli anticlericali hanno rinunciato a tenere il loro meeting a San Costanzo, motivando la loro decisione con l'impossibilità di una discussione serena in un clima tanto rovente.